Musica Aggressione e tentata, violenza sessuale in una casa di Piazza dei Colori, arrestato un trentenne. Riders, polemiche per il nuovo contratto collettivo nazionale. Sanità, un report del Centro Nazionale Trapianti, premia il Sant'Orsola. Sport, a Misano, si torna a tifare per il MotoGP. Benvenuti al GR in Cronaca, in studio Elisa Toma. Apriamo con la cronaca. Si introduce in casa e cerca di violentare una ragazza, ma lei riesce a fuggire in strada. L'uomo è finito in manette. Maggiori dettagli nel servizio di Marcello Conti. Un tentativo di violenza sessuale in pieno giorno tra le mura della propria casa. È quello che è capitato, lunedì scorso, a una ragazza di 20 anni in Piazza dei Colori, zona Massarenti. La giovane era da sola in casa, quando uno sconosciuto è entrato scavalcando il muro del giardino. Probabilmente si è introdotto per rubare, ma vedendo la ragazza ha cercato di violentarla, aggredendola e strappandola i vestiti. Dopo una colluttazione, la donna è fortunatamente riuscita a divincolarsi ed è scappata in strada chiedendo aiuto. All'arrivo dei carabinieri, chiamati dai vicini, l'aggressore era ancora lì. Si tratta di un livoriano di 30 anni. Ora si trova alla dozza, in stato di fermo, per tentata violenza sessuale. Il sindaco Virginio Merola rinuncia per la seconda volta all'appuntamento con la stampa alla festa dell'unità. L'incontro però era molto atteso. Scopriamo il perché con Francesca Del Vecchio. Ieri sera Virginio Merola non si è presentato alla festa dell'unità. È la seconda rinuncia nel giro di una settimana. La prima era stata mercoledì 9 settembre a causa di un forte attacco di sciatica. Da martedì scorso soffro di dolori dovuti a quella che il medico mi ha spiegato essere un'ernia cervicale, ha detto il primo cittadino con un post su Facebook mercoledì mattina. Devo cercare di stare fermo, sono troppo infiammato, ha continuato. Per questo rinuncia l'intervista alla festa, fissata nuovamente per stasera, con i direttori e i caporedattori di quotidiane agenzie della stampa della città. Eppure si trattava di un incontro molto atteso dai militanti del PD, ma anche dai cittadini, sia per discutere l'eredità dei suoi dieci anni di operato, sia per dare un seguito al dibattito in corso sulle comunali 2021. Infatti, dopo la presentazione di Bologna Civica di Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom, e l'apertura del PD a una larga alleanza, Mero la si è risposto per il no. Per ora il confronto rimane aperto. Torniamo a parlare di Riders, perché è polemica sul lavoro autonomo e le poche garanzie date ai ciclofattorini. L'assessore del lavoro, Marco Lombardo, e il sindacato Riders Junior Bologna si schierano contro il nuovo contratto collettivo nazionale tra Asso, Delivery e UGL. I dettagli nel servizio di Francesca Chiamenti. Non c'è nulla di innovativo, ma solo un grande salto indietro nel passato. Così, l'assessore al lavoro del Comune di Bologna, Marco Lombardo, ha commentato il nuovo contratto collettivo nazionale per i riders, stipulato fra Asso, Delivery e il sindacato UGL. Seppur primo esempio a livello europeo di tutela contrattuale per i riders, per l'assessore il contratto presenta ancora delle mancanze a livello di garanzie e diritti. Anche il sindacato Riders Union Bologna, con il portavoce Tommaso Falchi, evidenzia come siano mantenuti il cottimo, la questione paga ancora legata al numero delle consegne e le tutele nulle per quanto riguarda ferie, contributi e malattia. Di fatto, spiega poi Lombardo, dietro alla forma del lavoro autonomo, si copre la sostanza di una fuga dal lavoro subordinato. Secondo l'assessore, dunque, servirebbe una legge sulla rappresentanza e i sindacati auspicano un intervento del governo e la presa di responsabilità da parte delle piattaforme. L'ospedale Sant'Orsola è stato premiato dal Centro Nazionale Trapianti per il numero e la qualità delle operazioni. Soddisfatto l'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini. Ci dice di più Alessandro Arena. Un altro traguardo prestigioso per il Policlinico Sant'Orsola è la sanità Emiliano-Romagnola. L'ospedale, secondo il report del Centro Nazionale Trapianti, negli ultimi vent'anni si è attestato per la percentuale più alta di pazienti sopravvissuti a trapianto di cuore. 540 le operazioni effettuate, in media sono 28 all'anno. Alto anche il numero di donatori di organi. Soltanto nel 2019 sono stati 37. Un insieme di dati che l'assessore regionale alla salute Raffaele Donini ha commentato con toni di elogio. Il trend ha subito un brusco rallentamento con il coronavirus, senza però mai arrestarsi. E a proposito della pandemia, Donini sottolinea come la regione sia al lavoro per l'arrivo di test rapidi e vaccino antinfluenzale. Passiamo alla cultura. Tutto pronto per la nuova edizione della rassegna letteraria Le Voci dei Libri, quest'anno organizzata in Sala Borsa. Il primo appuntamento questa sera con il sindaco di Bologna, Virginio Merola, e lo scrittore, Gianrico Carofiglio. Tutti i dettagli nel servizio di Federica Nannetti. Al via oggi la rassegna di incontri letterari Le Voci dei Libri, appuntamento nato nel 2015 e che riunisce sotto le due torri grandi scrittori, intellettuali e artisti del panorama italiano, ma anche un vasto pubblico. E proprio per questo la nuova edizione è stata organizzata nella grande piazza coperta della biblioteca Sala Borsa. Il primo ospite, Gianrico Carofiglio, presenterà il suo nuovo saggio intitolato Della gentilezza e del coraggio, breviario di politica e altre cose, edito da Feltrinelli. Dal 22 al 30 settembre, poi, si succederanno Maurizio Molinari, Massimo Cacciari e Ivano Dionigi, Simonetta Fiori e lo psicanalista Mario Vittorangeli, Oscar Farinetti. Altri appuntamenti, oltre alla serata del 20 settembre, già prevista all'Arena del Sole, continueranno anche nel mese di ottobre, con protagonisti del calibro di Sandro Veronesi, vincitore del premio Strega e della scrittrice architetto palestinese Suada Miri. Le voci dei libri, nata con l'intento di far rivivere la storica tradizione dei sabati dell'archiginnasio, prende il nome dall'omonima opera del professor Ezio Raimondi, che parlando del libro ha sempre sostenuto È una creatura che ci parla e leggere è un'occasione di incontro e di amicizia. Riandare ai libri che ci hanno accompagnato negli anni significa allora davvero ritrovare pagine e persone che ci sono state amiche. Chiudiamo con lo sport. Torna il tifo per il MotoGP. Quasi 10.000 spettatori ammessi all'interno dell'impianto di Misano. Il servizio è di Giulia Napolitano. A Misano il pubblico torna a tifare per il MotoGP. Quasi 10.000 spettatori ammessi all'interno dell'impianto. Con senso di responsabilità e sicurezza abbiamo dimostrato che è possibile aprire eventi sportivi al pubblico, ha dichiarato il presidente della regione Stefano Bonaccini, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Rivera di Rimini, prossima tappa del MotoGP. Il circuito di Misano è stato il primo ad aver riaperto al pubblico per le gare del Moto Mondiale in occasione del GP di San Marino e si prepara a replicare questa domenica per il Misano 2. Il meccanismo di accoglienza si è mantenuto sostanzialmente invariato, nonostante la capienza dell'impianto, che normalmente può ospitare fino a 100.000 spettatori, si è stata ridotta. Ha fatto eco il sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni, che ha espresso soddisfazione per il successo di pubblico registrato. 10.000 le persone ammesse all'interno dell'impianto, che può contare i 65.000 ettari di spazio a disposizione. 18 tribune, 23 gate di accesso, 700 steward addetti al controllo dei documenti, incaricati di garantire il rispetto delle misure anti-Covid. Accessi dedicati a ogni tribuna, a misurazione della temperatura, obbligo ad indossare la mascherina, segna posti di distanziamento di un metro, assistenza fino al proprio posto in tribuna. Queste le misure adottate per garantire il rispetto delle direttive anti-contagio e mantenere il distanziamento interpersonale in accesso, uscita e durante la permanenza all'interno dell'impianto. Il circuito ha ospitato un tavolo tecnico permanente in cui, in coordinamento con la ASL, la Regione e le altre autorità competenti, è stato individuato un protocollo in linea con le disposizioni ministeriali, ha confermato Andrea Albani, direttore generale del Misano World Circuit, che, al di là dell'aspetto infrastrutturale, si è detto contento per il successo della campagna di sensibilizzazione dei fan, che hanno risposto positivamente attenendosi alle disposizioni ricevute. Non abbiamo riscontrato nessun tipo di difficoltà, dall'affluenza ai gate alla permanenza sulle tribune, ha dichiarato Albani. Per questa edizione è tutto, un saluto dalla redazione di Incronaca. Grazie a tutti.